Musica Amici sportivi di Tela Romagna Buonasera e benvenuti a tutti dall'hotel Felicity Il saluto vi arriva da Simone Massaccesi e dalla brand manager di Punto Col Sport Silvia Pedini Buonasera a tutti Allora ci siamo riuniti qui oggi per presentare quella che sarà la squadra della giovanile Rimini Che tra pochissimo partirà per la Spagna Perché ve lo avevamo già annunciato da tanti mesi Ormai Roberto Renzi, il mister della giovanile Rimini Stava muovendo le ultime pedine Stava completando quella che sarà appunto la rosa E tra pochissimo perché venerdì si parte in quel di Barcellona A fare cosa si partirà Silvia In questa Barcellona Professional Cup Perché molti non lo sapranno Ma è un torneo internazionale In cui la squadra appunto di Roberto Renzi Si confronterà con realtà della provincia catalana Quindi di Barcellona In realtà magari meno conosciute Ma soprattutto con squadre blasonate E lì sulla bocca di tutti ci saranno Niente po' di meno che Espagnol E Barcellona Allora andiamo magari a vedere un attimo Silvia Quelle che saranno le quattro partite di questa Barcellona Professional Cup Di questo torneo internazionale Che il 4 giugno partirà Perché il 4 giugno la giovanile Rimini Giocherà alle 18 contro il Cosecia Una squadra che tra l'altro abbiamo già visto Nell'anno scorso Nel reality appunto che abbiamo girato Proprio la stagione scorsa Il 7 giugno invece che è un giovedì Alle 20.30 si giocherà contro la Iagostera Che invece è una novità per quanto riguarda il nostro format Perché l'anno scorso non è stata affrontata dai ragazzi Poi ci sarà le spagnole Ed entriamo un po' nel vivo Nella parte succulenta di quello che sarà questa avventura Della Giovanni dei Rimini Si giocherà alle 20 appunto di martedì 12 giugno Contro l'Espagnolo Che in realtà abbiamo già affrontato anche l'anno scorso La cegliegina sulla torta di questa avventura Sarà il 14 giugno che è un giovedì Alle 11 Quindi il giorno prima proprio di ripartire per l'Italia Contro il Barcellona Ovviamente vediamo un appuntamento Che non potrà che essere bellissimo Perché noi già non vediamo l'ora Ma penso che i ragazzi giocare contro realtà Anche l'Espagnolo ovviamente Però una realtà come il Barcellona Sicuramente sarà bellissimo Detto questo come punto gol sport Seguiremo passo dopo passo le vicende Dei ragazzi Cercheremo di non farvi mancare nulla Perché vogliamo anche capire come si approcceranno Alle partite Cercheremo di capire anche come vivono i loro momenti di libertà Di svago Insomma tutto E di più per cercare di non farvi mancare Veramente nulla di questa avventura della giovanile Rimini Ovviamente cercheremo anche di lasciarvi un po' in pace Perché se no Non possiamo stare lì a A rompere troppo loro le scatole Detto questo tutti i giorni vi aspettiamo dal 3 giugno Perché ripeto La squadra partirà l'1 giugno Ovviamente arriverà un po' prima Per quanto riguarda la Rispetto alla Barcellona Professional Cup Arriverà un po' prima Ma noi Trasmetteremo dal 3 giugno Perché ovviamente Essendo il 2 giugno il primo giorno di permanenza in Spagna Tempo che montiamo tutto E insieme al mio operatore Gianluca Che verrà come in Spagna Mandiamo un po' in Italia il materiale Ovviamente il 3 giugno sarà la prima puntata Delle reality della giovanile Rimini E alle 20 e 30 sul canale 74 Teleromagna Mia Ci sarà appunto la prima puntata Che andrà avanti fino al 16 giugno Quindi dal 3 al 16 giugno Vi do appuntamento alle 20 e 30 sul canale 74 Siccome però Silvia E qui mi fermo un attimo La maggior parte di loro Non viene da Rimini È giusto anche dire come fare a seguire Teleromagna in streaming Perché c'è intanto un canale Che è un sito internet Che è Teleromagna.it Ci sono i 4 canali di Teleromagna in streaming E quindi basta che cerchiate il 74 E lo potrete vedere tranquillamente in streaming In diretta Quindi alle 20 e 30 ogni giorno Poi invece comunque lo pubblicheremo Praticamente quasi in contemporanea Sui nostri social Quindi mettete mi piace La pagina facebook.golfsport E soprattutto seguite Iscrivetevi al canale youtube.golfsporttv Perché poi lì Se vi iscrivete vi arriva proprio la notifica Che abbiamo pubblicato la puntata Detto questo Silvia Prima di andare avanti Abbiamo detto tutto per il reality Però questa è una delle grandi novità Che abbiamo anche visto quest'anno In Punto Gold Sport Che si allarga sempre di più direi Io non so Vi auguro un buon viaggio Io non ci sarò Quindi Peccato A te a Gianluca A Renzi E tutti i giocatori Bene appunto Abbiamo detto Che sarà una grande avventura Detto questo Vi abbiamo anche riassunto Quelle che saranno le partite Ecco tra l'altro Mi sono scordato di dire Dopo il giorno della messa in onda Ci sarà anche la partita in integrale Quindi insomma Queste quattro partite Se anche volete per caso vedere Quelle contro il Barcellona Le spagnoli Gli agostieri Tranquilli che potete tranquillamente guardarle Vi ricordo appunto 20 e 30 Tutti i giorni dal 3 al 16 giugno Poi Abbiamo due componenti Dello staff tecnico Qua a fianco a me Allora darei un attimo Il microfono a Roberto Renzi Che ormai lo conoscete benissimo E' l'allenatore Della giovanile Rimini Perché Roberto Tra un po' si parte con la Spagna Abbiamo già visto L'anno scorso Perché tu ormai Si è abituato a andare a Barcellona Però abbiamo anche portato Le telecamere In realtà Che magari non tutti i giorni Si vedono E quindi ti chiedo Siamo pronti per partire? Beh Intanto buonasera a tutti Direi che siamo pronti Abbiamo fatto le ultime scelte Venerdì Alcune dettate Da ovvi motivi Tecnici La squadra è pronta Sono convinto Che anche quest'anno Diremo la nostra E poi speriamo Che la fortuna ci assista Cosa ti devo dire? Sicuramente E' più difficile Dell'anno scorso Perché Indipendentemente Da quello che è Le spagnole Barcellona viene Dalla vittoria In Newt League Quindi Stiamo parlando Del top Del calcio europeo E' già Secondo me E' già un onore Poter entrare Nella cantera Quindi I ragazzi Spero che lo abbiano capito Se non lo hanno capito Lo capiranno Allora Hai fatto bene ricordarlo Non l'avevo specificato Ma la Junior Champions League Penso si chiami così La Youth League Esatto La vinta proprio Il Barcellona La cantera del Barcellona E saranno Quei ragazzi Che affronteremo Noi Adesso dico noi Perché ormai Siamo entrati Escendo in campo Anch'io quel giorno Giusto Roby Mi metto in porta Va bene Detto questo Sarà una grande sfida Ma comunque Tutti gli altri campi Anche per vedere Un po' Quello che è La realtà spagnola Un calcio diverso dal nostro I campi diversi dal nostro Insomma Noi cercheremo di farvi Veramente vivere Ogni momento di questa avventura Mimmo Petroc Invece tu sei al mio fianco E sei il preparatore atletico Della squadra Ci raggiungerai per un periodo Un periodo Diciamo a Barcellona Ma come li hai preparati Per questa avventura Per fare una battuta A Roberto Dico dobbiamo parcheggiare Il pullman Compro il Barcellona Dentro la porta Perché altrimenti La vediamo dura No È una cosa al volo Proprio per questa battuta Che hai fatto Ci sono le guardie svizzere Giusto Che non riusciamo proprio a entrare Anche se volessimo Siamo dal confine Francia Svizzera Spagna Quindi ha voglia di guardie Scherzi a parte No Ci stiamo preparando bene Vedo una grande disponibilità Dei ragazzi Perché allenarsi Col caldo E soprattutto A cavallo tra la fine Della stagione L'inizio di questa avventura Non è facile Anche perché Carichi di lavoro Soprattutto Nelle prime due settimane Sono stati Carichi di lavoro Importanti Dove abbiamo Per così dire Dato spazio A lavori aerobici Quindi di corsa Anche su distanze Abbastanza lunghe E quindi sono state due settimane Abbastanza intense Come dicevo prima E poi pian pianino Giustamente Avvicinandosi a questo Torneo Appunto Importante Perché tutte e quattro Le squadre Sono squadre Di grosso livello Poi c'è il Barcellona E lei quando senti Barcellona Già gli stimoli Ti vengono da solo Anche se non giochi Da vent'anni Però a maggior ragione Dobbiamo essere pronti Ad affrontare Queste quattro partite Sapendo che comunque Il clima A livello Appunto proprio Atmosferico È abbastanza Come dire Torrido Perché comunque la temperatura Lì quando sono stato Due anni fa con loro Mi ricordo Era abbastanza Una temperatura Abbastanza importante Sotto questo aspetto Perché faceva molto caldo Quindi dobbiamo essere pronti A livello fisico Ma anche a livello mentale A livello Appunto atletico Abbiamo lavorato bene Insieme a Roberto E quindi penso Mi auguro Che comunque Questi carichi di lavoro Possiamo vedere In pratica lì Nel senso che i giocatori Nelle quattro partite Possono rendere Al massimo Proprio a livello fisico Diciamo Non abbiamo Fatto chissà Che cosa Perché poi nel calcio Non bisogna mai inventare nulla Bisogna sempre rimanere umili E bisogna Capire Dove lavorare Abbiamo fatto Sì abbiamo fatto Dei lavori specifici Sia per quanto riguarda Appunto come dicevo prima Del lavoro aerobico Anche dei lavori di forza E poi alla fine Dai stiamo trasformando tutto Con un po' di rapidità Di velocità Per avere poi le gambe Pronte per affrontare la prima partita Anche se poi comunque Il tour È lungo Perché sono Mi sembra 15 giorni 16 giorni Quindi poi Non è che facciamo una partita E si va via Cioè bisogna fare quattro partite Dove bisogna rendere al massimo E tutti i giocatori Devono essere pronti Qualora Roberto Poi li chiama in causa E già E quello appunto Sarà anche La parte bella Del reality Cercare di capire Come arriveranno Al 14 giugno Perché Sarà la cosa più interessante Roberto Una piccola battuta Poi prima di Presentarvi ufficialmente I 20 giocatori Che verranno in Spagna Vediamo Sicuramente L'avremo visto Le nuove maglie Della giovanile Rimini Che ha cambiato Il logo L'unica cosa Che non ha cambiato È il mister Sembra Roberto Renzi Però ha cambiato tutto Per intenderci Le maglie Le abbiamo viste Mute d'allenamento Roberto Come mai questo L'avevamo già annunciato Come mai questo Nuovo look Intanto Siamo partiti Dal luogo nuovo Che quello vecchio Era vecchio Siamo partiti Da un'idea L'idea è piaciuta Attraverso quest'idea Dobbiamo ringraziare Sperticatamente Dobbiamo ringraziare Vincenzo Dalla Macron Che ci ha appoggiato In maniera incondizionata E abbiamo sviluppato Le divise Che andremo Ad operare Durante le partite Questa di destra È la maglia Che adopereremo Col Barcellona E quella di sinistra È quella che adopereremo Col Espagnolo Non dimenticarci Anche La divisa rossa Che è quella D'anno scorso E poi abbiamo Un'altra divisa blu Che È quella che adopereremo Con l'Agostera Molti Magari l'Agostera Non la conoscono Ma è una società Professionistica A due passi Da Girona Magari in prima squadra No ma a livello Giovanile Ha un grandissimo Settore giovanile E Dobbiamo solamente Ringraziare La Macron Perché Vincenzo Perché quello Che vedi Sì È grazie a lui Siamo quasi 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 Il logo L'hai studiato con lui? No Il logo È nato Da un'idea Di mio genero Mi è piaciuto L'abbiamo sviluppato L'abbiamo modificato In alcune cose È piaciuto Un po' A tutti E L'abbiamo portato avanti È piaciuto anche a Nicola Che è il terzo componente Dello staff Tra poco lo conosceremo Anzi direi che Senza ulteriori indugi Tanto le cose le abbiamo detto Adesso presenteremo la squadra Vi ricordo semplicemente Dal 3 giugno Al 16 giugno Alle 20 e 30 Sul canale 74 Teleromagna mia E sulla pagina facebook Poi punto Goal sport E canale youtube Punto Goal sport tv Io vi faccio i collegamenti Qua da Rimini Facciamo Però non andare al mare Che se no vinciamo noi Perché Lì abbiamo quello scorcio Roccioso Alla gabizze Potremmo dire E detto questo Andiamo a conoscere la squadra Silvia adesso Andiamo a conoscere Chiamiamo che Sì lo chiamiamo dopo In presentazione Vediamo allora Chi avrà portato Roberto Renzi Allora abbiamo visto appunto Lo staff tecnico E tutto quello che è La nostra partecipazione Come punto Goal sport Andiamo a conoscere adesso Questi 20 giocatori Che Roberto Renzi Porterebbe in Spagna Partiamo ovviamente Dal reparto difensivo Però Prima del reparto difensivo E' giusto anche Dato che nello staff tecnico Mancava un piccolo elemento Chiamare qui a fianco a me Nicola Montanari Direttore sportivo Eccolo qua Ciao Nicola Ciao Simone Buonasera a tutti Allora abbiamo detto già Ormai nel tempo Da dicembre Che diciamo Che manca tanto Adesso che manca poco Cosa possiamo dire? Bella domanda Non ho la risposta Era semplice Dai Una cosa molto aperta Possiamo dire che I ragazzi hanno lavorato molto Che Roberto Ha visto tantissimi ragazzi In questo periodo Possiamo dire che Mimmo ha lavorato Ha lavorato tanto Ci ha fatto una bella relazione Ci ha spiegato il lavoro Il carico di lavoro Che gli ha dato Possiamo dire Grazie Oltre che ai ragazzi Agli sponsor E tutti quelli Che ci hanno aiutato Che ci supportano Grazie a Teleromagna Perché anche voi Ci date una bella mano Una bella visibilità Speriamo che questi ragazzi Riescano A raccogliere Quest'opportunità Ecco una battuta Al volo sul comportamento Perché l'abbiamo accennato Anche poc'anzi A Telecamere Spente Sappiamo che c'è proprio Un codice etico Che i ragazzi Devono rispettare Perché comunque È una società Che su queste cose Ci tiene E quindi Ti lascio dire Magari due o tre Elementi importanti Che tenete sempre In considerazione Quando poi selezionate I giocatori Allora A differenza Dell'anno scorso Abbiamo fatto tesoro Di quello che è successo Cerchiamo tutti gli anni Di migliorare Abbiamo stilato Un codice di comportamento L'abbiamo Scritto A più mani L'abbiamo preso Abbiamo preso Come spunto Il fair play Dell'UEFA Quindi Troviamo molte cose Dentro questo codice Di comportamento Fondamentalmente Rispetto E buona educazione Di tutte le parti Questo è Per tutti Sono i valori Che hanno insegnato A me I miei genitori Che mi hanno fatto Star bene nella vita Che insomma Mi piace Che anche questi ragazzi Possano Farne un vero valore Perché il calcio La fine È un insieme di valori Tra cui tutti questi Che hai detto tu Certo Un calciatore Deve avere delle qualità Tecniche Fisiche Tattiche Ma senza queste qualità Morali Personal Individuali Non diventerà mai Un calciatore A meno che non si chiami Messi Ronaldo O Balotelli Che è convocato Allo stagio nazionale Esatto E insieme a questo Codice di comportamento Ci tengo a dirtelo Perché ne ho parlato Con Andrea Che è il capitano Della squadra Ci sarà un altro Codice di comportamento Che sarà quello All'interno dello spogliatoio Dove ne io Ne Roberto Entriamo Per l'equilibrio Che ci deve essere Fra i ragazzi Con i ragazzi Fra i ragazzi Per la squadra E Andrea Scriverà Questo codice Questo comportamento Che i ragazzi Devono avere Dopodiché Passo per passo Lo corregeremo insieme E speriamo di aver fatto Anche lì un buon lavoro Va bene Lo scopriremo tutto Allora a Barcellona Va bene D'accordo Grazie Ci vediamo tra poco Sul Pullman Sempre guidato Da nostro Simone Moratti Che conosceremo poi Durante le reality Detto questo Andiamo a conoscere Appunto il reparto difensivo Partiamo dal portiere Carmine Cantone Classe 1999 Eccolo qua Sta arrivando Ciao Carmine Ciao Allora sei alto Anche te ovviamente Giustamente sei un portiere Allora Qua ti tirano i giocatori Riminesi Perché sei della zona Tu sei uno dei pochi Riminesi Ma là sono spagnoli Non so adesso Volevo solo fartelo notare Sei pronto? Proveremo a fare il massimo Dai Ci proviamo Beh Deciso Proprio Sintetico Così mi piaci Questo è l'approccio giusto Bene Grazie Carmine Poi avremo modo di conoscerti meglio Guarda Vai pure dietro il tavolo Avremo modo di conoscerti meglio In Spagna Secondo portiere Per quanto riguarda Il reparto difensivo E ultimo ovviamente Raffaele Fiamingo Classe 1999 Ecco che sta arrivando appunto Raffaele Che tra l'altro lo scoprirete Alla maglia uguale alla mia Dello stesso colore Volevi copiarmi il ruolo? Sì dai Volevo fare i cambi Raffaele Raffaele Magari Raffaele Beh l'altezza è la stessa comunque Ero portiere anch'io all'epoca Quando prima di andare in pensione No Raffaele Appunto dicevo appunto Con Carmine Sarà un'esperienza per voi portieri Ancora più bella no? Parare i tiri di giocatori Che comunque non vedete tutti i giorni qua Certo Sarà un'esperienza unica Che non faremo spesso Quindi daremo il massimo dai Va bene Grazie allora anche a te Raffaele Adesso andiamo avanti con il reparto difensivo Ma passiamo un po' fuori dall'aria Il primo è Serigne Lopape Classe 1999 Ciao Serigne Piacere Buongiorno Accompagni e tutto così Secondo me Sta' una bella esperienza Dai allora ti auguriamo lì in bocca al lupo Ci vediamo a Barcellona Andiamo avanti adesso con un altro difensore Classe 1994 Alessandro Belloni Che non c'è Che infatti Ancona giustamente Ve lo diceva Allora Alessandro lo conoscerete in Spagna Ma fa parte della Rosa Classe 1994 Andiamo avanti con Gabriele Varrella Classe 1994 Ciao Gabriele Gabriele tu sei uno dei più esperti Anche a livello di età Quindi prenderai in mano le redini del gruppo? Ci proviamo Abbiamo il capitano Il più vecchio Quindi lasciamo fare a lui Te ti diverti e basta Sono qui per divertire Mi fa un'esperienza Va bene Non è in bocca al lupo anche a te Bene Andiamo avanti con Matteo Antonucci Classe 1997 Allora Matteo Eccolo qua Classe 1997 Tu invece sei pronto Per questa avventura? Prontissimo Prontissimo Una bella avventura Una bella esperienza Non si fa tutti i giorni comunque Quindi è da vivere al massimo Ecco l'anno scorso Non so se lo hai seguito Ma le Spagnole Ha rischiato di perdere Contro la Giovanile Rimini Poi c'è qualcuno Che non è presente in questo gruppo Ma viene un attimo più alla luce Ecco così C'è un ragazzo Che l'anno scorso Ho sbagliato un gol Clamoroso davanti alla porta Se no poi Roberto Lo può confermare La Giovanile Rimini Avrebbe potuto vincere Contro le Spagnole Quest'anno c'è il Barcellona Quindi sai benissimo Che potreste vincere Speriamo È difficile Però comunque ci proviamo Io la tocco piano L'ho sempre detto Intanto grazie In bocca al lupo Matteo Ovviamente noi siamo qua Anche per divertirci Sotto questo punto di vista Altro difensore Giovanissimo Classe 2001 Andrea Di Mattia Allora passiamo Dal più vecchio Da uno dei più vecchi A uno dei più giovani Com'è a questa età Andare a Barcellona? È una bella esperienza Vedremo in Spagna Come andrà a finire Sperando che andrà bene Qual è il tuo obiettivo personale? Beh certo Sono un difensore Speriamo di prendere Meno gol possibili E vincere più partite Possibili Va bene Allora grazie In bocca al lupo Anche a te Andrea Andiamo avanti Con l'ultimo Giocatore Per quanto riguarda L'eparto difensivo Un bel applauso Alla classe 2000 Francesco Gregoriu Che spero di aver pronunciato bene Eccolo qua Francesco Classe 2000 Eccolo qua Ciao Francesco Piacere Di dove sei Francesco? Vicino Roma Vicino Roma Te sentimo un po' Allora Si sente Si sente Francesco A te a Barcellona Ci sei mai stato? Sì l'anno scorso Però non mai sul campo del Barcellona Non mai Non mai Allora non mai Raccontaci un po' Cosa farai contro il Barcellona Speriamo di giocare Fare una bella prestazione E prendere meno gol Possibili Va bene Allora In bocca al lupo Anche a te Francesco Grazie Puoi raggiungere i tuoi compagni Dietro il palco Roby Direi che Intanto qua abbiamo fatto Il reparto difensivo Mi sposto un pelo Se Gianluca in regia Non mi ammazza Hai fatto un'ottima scelta Anche a livello fisico Beh intanto Quei tre fuori quota Che portiamo Li dobbiamo portare Che facciano la differenza Perché Se non lo fanno È inutile portarli E qui Questo è un messaggio importante Per i più vecchiotti Cosa devono fare Per convincerti fuori quota Ma fuori quota Mi interessa che faccia Uno spogliatoio Sulle dotti Sulle qualità Atletiche Calcistiche Le conosco E quindi Mi interessa Che i ragazzi Quelli più grandi Diano una mano Aiutino il campo Quelli che sono più piccoli Perché Le partite Che andiamo a fronteare Ce ne sono due Che Sono toste Toste E servirà sicuramente Il loro prezioso contributo Ricordiamo Perché non penso Di averlo detto Ma è un torneo Under 21 Quindi la maggior parte Dei ragazzi È giovane Proprio per questo motivo Sarà importante L'aiuto dei più Anzianotti Tra virgolette Centrocampo Ora classe 1995 Ah potete rimanere lì Ragazzi Che così dopo Ok no Allora niente Potete proseguire Classe 1995 Filippo Magri Ciao Filippo Allora Centrocampo Apriamo un'altra parentesi Un altro 95 insomma Inizia già ad avere Un po' di esperienza calcistica E quindi arriverai poi lì A giocare con quelle realtà spagnole E servirà tutto il tuo contributo Sì sì certo Sicuramente Cercheremo di fare Il massimo Io personalmente Darò il massimo E poi Speriamo di toglierci Delle soddisfazioni Dai Anche perché andiamo In dei campi dove Io in primis Non so se mai ci tornerò Anzi probabilmente Non ci tornerò mai più Quindi sicuramente dovrò Cioè sarò anche emozionato Però sarà una bella esperienza Dai Allora va bene Ti ringraziamo Filippo Bocca al lupo ovviamente E speriamo che tu ti possa Guadere al massimo Questa avventura Adesso vorrei un grande applauso Perché arriva il capitano Il più anzianoso di tutti Classe 1992 Andrea Renzi Allora capitano Tu sei il più esperto Il più serio Diciamo anche il più serio Dipende dalle circostanze Dipende dalle circostanze Servirà proprio Il massimo del tuo impegno Anche perché Quest'anno la Rosa è molto giovane Quindi anche per i più piccolini Sarà importante Come guida Serve il mio quanto quello degli altri Quindi da solo Non vado a nessuna parte Come nessuno di loro Quindi Servirà a fare il massimo E Darsi da fare Come abbiamo fatto l'anno scorso Gli anni passati Gli dici qualcosa Negli spoglitori Ci puoi svelare qualcosa Che non ci puoi dire Davanti Nicola e Roberto Ovviamente In sintesi Per il momento ancora Niente di che Quindi Stiamo guardando Più che altro Come si comportano Poi Se c'è qualcuno che va oltre Cerchiamo di fermarlo subito Cioè nel senso Come comportamento Va bene Grazie Andrea Ovviamente in bocca al lupo Anche perché Piccolo aneddoto L'anno scorso Tra un po' Simone Moratti L'autista Lasciava a piedi un ragazzo Perché era in ritardo Quindi presumo che quest'anno A livello di puntualità Saranno tutti puntuali Ho questa sensazione Andiamo avanti adesso Con un ragazzo Che l'anno scorso È già venuto Alle nostre telecamere Non parla italiano Quindi auguratemi Una bel in bocca al lupo Arcadio Baidu Classi 2000 Ecco l'Arcadio Che sta arrivando Adesso voglio ridere Con Arcadio Come me la cavo Allora Are you happy To come back To Barcelona? I'm very happy I'm very happy Ma questo si è capito Ha detto che è molto felice And what's your goal In this tournament? I learned a lot last year And I'm going to prove this year Va bene Grazie Arcadio Ha detto che l'anno scorso È andato molto bene Puoi raggiungere You can go with him Ha detto che l'anno scorso Ha fatto bene Quindi è contento Che quest'anno Sia stato riconfermato Andiamo avanti Con il classe 2000 Sono stato bravo Anche con l'inglese Visto Classe 2001 Giacomo Finocchi Ecco Ecco Giacomo Ciao Piacere Di dove sei Anche tu hai un accento Di Roma Sì di Roma È proprio Roma 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 Ti fianchia la Roma? No la Lazio Ahia ok Perfetto Ho toccato proprio il tasto C'è il derby Non lo facciamo il derby Però c'è una bella partita Contro Barcelona Nel Spagnol Però ti voglio chiedere Le altre due squadre Che sono il Cosè C'è la Lai Agostena Le hai sentite nominare? Sì Sono squadre di categoria inferiore Comunque non sono da sottovalutare Sono squadre che giocano forse meglio Molto meno sulla tecnica Però A partire dalla fisicità Dal cuore ce lo mettono Comunque sono Da affrontare molto bene con la testa Da non sottovalutare Ecco Bravo Così mi piace Questo è stato il migliore Per il momento Facciamogli un altro applauso Bravo a A Giacomo Puoi raggiungere Anche i tuoi compagni Classe 2001 Tra l'altro Quindi una dei più giovani Prostituiamo con un classe 2001 Marco Chiacchierini Eccolo qua Ciao Marco in arte Caparezza Giusto? Sì Sì Uguale Uguale Identico Allora Marco Tanto cosa ti aspetti da questa avventura a Barcellona? Innanzitutto sarà una bellissima esperienza Perché affrontare squadre del calibro come Barcellona ed Espagnol È un'esperienza che nessuno c'è In pochi possono fare E quindi speriamo di andare il meglio possibile Va bene Allora puoi raggiungere i tuoi compagni In bocca al lupo anche te ovviamente Allora Federico Berna Classe 2001 Ciao Federico Tu sei tra l'altro un ragazzo che è cresciuto a livello comportamentale nel modo corretto Nel senso che se non sbaglio hai fatto dei giovanili a Torino Alla Juventus Ho imparato tanto Darò tutto in queste due settimane in Spagna Speriamo anche di vincere qualche partita E giocare meglio soprattutto Obiettivo personale tuo? Di sicuro giocare bene Poi se arriva anche qualche gol Non mi lamenta Va bene allora ti auguriamo ovviamente il meglio E un applauso anche a Federico Ultimo centrocampista È un classe 1999 Anche lui non parla benissimo italiano Ma so che ha studiato Non parla benissimo italiano ma so che l'ha studiato bene Lui è il famoso 433 A tavola Marvel Odichi Applauso Classe 1999 Però so che adesso mi saluterai in italiano Allora Odichi Guarda Girati verso la telecamera Come va? Tutto bene Grazie Tutto bene Tutto bene Sei contento di ritornare in Spagna dopo un anno? Sì Però secondo me Molto importante Va da là Vincere il tornammento Però Tutto bene Grazie Odichi Ha detto Appunto hai detto che sei contento di essere ritornato Ma l'importante è vincere giusto? Sì Perfetto Allora raggiungi pure i tuoi compagni Anzi Andate pure al tavolo ragazzi Questo è il reparto di centrocampo Così abbiamo visto anche Quelli che sono In mezzo Lì E andiamo avanti E stiamo per raggiungere la fine della nostra presentazione Ma anche il reparto Offensivo Partiamo dal classe 1997 Barakarim Non ti uccidere Karim Allora tu invece l'italiano lo parli molto bene Allora girati anche tu per sulla telecamera In attacco bisogna segnare Quanti gol vuoi fare quest'anno? Il più possibile Dammi la cifra Quattro partite Allora se lo fai cosa ci offri? Niente Vuoi qualcosa Ah beh proprio subito così Allora va bene Se fai 5 gol Ti offriamo una birra Va bene? Io non bevo Bene perfetto Allora ti offriamo una birra Abbiamo già Ti offriamo una birra così non bevi E la beviamo noi Così Grazie Karimba Questo è il giusto esempio calciatori Vedi Allora andiamo avanti Classi 1995 Un veterano del gruppo E quindi qui vorrei un altro grande applauso Andrea Montanari Allora veterano come va? Tutto bene Tutto bene Sei pronto? Ormai non ne puoi più di andare in Spagna te No invece Invece come tutti gli anni C'è sempre grande voglia Grande entusiasmo E speriamo che quest'anno Di ripeterci come gli altri anni Di fare bene insomma Ecco come ti sembra il gruppo I ragazzi che stai conoscendo In questo mese ormai Che vi conoscete Allora una parte di gruppo Comunque è consolidato Dagli altri anni Che Ne abbiamo un'ossatura Che ci portiamo avanti Che funziona E gli altri ragazzi Si stanno integrando al meglio Quindi Speriamo bene Ma i presupposti ci sono Grazie Andrea Montanari E allora Andiamo avanti C'era anche lui l'anno scorso E anche qui Voglio un grande applauso Per Vincenzo Mistretta Classe 1999 Direttamente da Palermo Eccolo qua Però Non posso dire quella parola lì Però hai giocato a Palermo Ma sei nato a Palermo Ma quest'anno hai giocato A Davellino Giusto? Eh Diciamo che L'esperienza però Poteva andare meglio Eh vabbè Minchia lo posso dire adesso Eh minchia Ok va bene La potevamo dire ovviamente Non siamo più in fascia protetta Ma è quindi Quindi chi se ne frega No Vincenzo Qual è il tuo obiettivo personale Quest'anno? Beh di fare delle belle prestazioni Perché anche Giochiamo con delle squadre Molto importanti Soprattutto il Barcellone L'Espagnol Che Quest'anno Il Barcellone Ha vinto pure la Youth League Quindi È molto difficile Giocare con loro Non ti arrabbiare con me però Quando lo dici Sembra che ho fatto qualcosa Eh perché Mi fai pensare ancora all'anno scorso Eh vabbè Vabbè Portafogli Esatto Che tra l'altro Che tra l'altro Doveva affrire il mio gelato Non me l'ha neanche offerta Ha voluto anche l'acqua Tra l'altro Mi sembra che Ma che stai dicendo Dai Provare per credere Grazie Vincenzo Ci vediamo in Spagna Tra pochissimo Andiamo avanti Ne mancano due Poi ci siamo Applauso per il classe 2001 Marco Giovannettone Eccolo qua Ciao Marco Ho pronunciato bene Giusto Sì Ho pronunciato benissimo E tu invece di dove sei Perché Di Roma Infatti Volevo dire No Si sente anche te Si sente Si sente Da Roma A Rimini Da Rimini A Barcellona Giusto È un'occasione Che ti capita poche volte Nella vita E secondo me Ho solo da imparare Da questa occasione Perché gioco con gente Molto più esperta di me Molto più grande E ando ad affrontare Un altro tipo di calcio Quello spagnolo Quindi Ho solo da apprendere Oh bene Mi è piaciuta anche questa risposta Bravo Bravo Marco Ci vediamo tra pochissimo In Spagna Ultimo Ma non ultimo Classe 1999 Mattia Magrini Ciao Mattia Piacere Anche tu sei di Roma Sì Vedi no Guarda Quando hai detto piacere Proprio si sentiva Giriamoci un attimo Un po' verso la telecamera Allora abbiamo detto Che il reparto offensivo È molto importante I tuoi compagni Vogliono fare Per esempio Carin vuole fare Cinque gol In quattro partite Tu quanti ne vuoi fare? Bah guarda Un numero preciso Non te lo so dire Però cercheremo di fare il meglio Anche per la squadra E Speriamo bene Anche perché Siete in Cinque Noi quindi Non tutti potete giocare Contemporaneamente Cosa fare per convincere il mister? Beh niente Per convincere il mister Cercheremo di dare sempre il meglio E mettere in difficoltà Principalmente durante gli allenamenti E Con la disponibilità Che ci può dare in mezzo al campo Durante le partite Magari metterò ancora più in difficoltà Grazie Grazie anche a Mattia Adesso direi che ci siamo È proprio tutto Voglio comunque ringraziare Roberto Renzi Mister della giovanile Rimini Grazie Roberto Un bel applauso Anche a Roberto Che eccoci qua Mimmo Petrocca Che invece è il preparatore atletico Della squadra Grazie Mimmo E un bel applauso Al direttore sportivo Nicola Montanari Detto questo Allora direi che è tutto Noi ci vediamo comunque Dal 3 al 16 giugno Alle 20 e 30 Sul canale 74 Tele Romagna Mia Se in alcuni satelliti Ti è scritto Tele Ravenna Non spaventatevi Perché il canale è sempre quello L'importante Che sia il 74 Ci vediamo allora Il 3 giugno Il 3 giugno